Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Estate tra schiamazzi e degrado per i residenti di via del Moleto a Fanno scatta la raccolta di firme per il sindaco Una pista ciclabile da percorrere quasi alla cieca è tutto per colpa della folta vegetazione che impedisce ai ciclisti di vedere la strada Torna alla fiera di San Bartolomeo con tante novità anche per i più giovani Pinocchio da record, 25.000 persone al paese dei balocchi Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale sul canale 17 di Fanno TV Questa sera il telegiornale lo apriamo con la protesta dei residenti di via del Moleto che per la terza volta tornano a reclamare un po' di tranquillità in quella che è ormai un'estate che si sta per concludere ma che per loro è stata sotto certi punti di vista sotto certi aspetti un'estate un po' da incubo Vediamo perché Quella di via del Moleto è una storia infinita di sporcizia, incuria, inquinamento acustico parcheggi mancati, multe e disagio dei residenti che da tempo denunciano agli organi competenti Comune, ARPAM, vigili urbani di questo loro disagio di fronte al persistere di una convivenza difficoltosa con tutto ciò che avviene al di là della ferrovia e ciò che non viene fatto al di qua della stessa via del Moleto appunto E non è solo il trito e ritrito braccio di ferro tra chi vuole la musica e chi non la vuole per dormire è di più, molto di più e soprattutto avviene da molto tempo Sono da anni che costantemente ogni anno facciamo una lettera al comune denunciando le solite cose ma il comune è assente sembra che il comune finisca al fiume Arzilla di qua come se noi non pagassimo le tasse comunque abbiamo problemi enormi prima di tutto questa strada che è stata creata a doppio senso di marcia diventa caotica la sera soprattutto quando c'è la musica negli chalet del mare fino alle 4 del mattino e noi residenti abbiamo difficoltà a rientrare nei nostri garage perché è impossibile la circolazione qualche volta vengono i vigili noi li ringraziamo perché vengono e fanno vedere che in qualche modo ci sono ma quando abbiamo veramente la necessità la notte e la sera sono assenti siamo lasciati soli quindi il traffico è caotico ci hanno rotto i paletti per impedire l'entrata ai nostri garage vengono a fare i loro bisogni di fronte alle porte dei nostri garage dicevamo che il disagio deriva da una sommatoria di elementi riportati tutti nella lettera indirizzata al sindaco e protocollata il 22 di agosto dal comune di Fano verde incolto, sporcizia, traffico caotico nelle ore serari in una strada chiusa e poi a tardanotte gente che scambia gli anfratti poco luminosi in una toilette personale e poco riposo un altro grosso problema è la pulizia della scarpata ferroviaria perché è stata abbandonata a se stessa prima tutti gli anni venivano a pulire, a tagliare anche se grossolanamente quest'anno lo potete vedere anche voi che c'è razza, abbiamo le foreste non c'è, non so, non so come si possa andare avanti così oltre tutto questo ieri sera l'abbiamo visto un topo lungo così che è spuntato di lì un altro inconveniente è la musica alta fino alle mattina fino alle 4 del mattino che rimbomba proprio negli appartamenti il problema uno potrebbe anche sopperire a questo disagio però diciamo che potrebbero abbassare i decibel e ridurre magari di qualche ora le autorizzazioni allora il problema anche dei residenti è quello di poter parcheggiare un vicino sì, in questa fascia qui perché noi 50 appartamenti non abbiamo parcheggio abbiamo 10 parcheggi sopra ma ce li dobbiamo dividere fra di noi anche facendo un po' le capisce com'è e vediamo questa zona libera poi al giovedì sera quando c'è la festa qui è tutto pieno quasi parcheggiano qui sopra e le guardie non si vedono quindi questo per noi è un grave problema ma vorremmo che il comune finalmente prenda una decisione abbiamo fatto delle proposte io qui ho 14 lettere abbiamo fatto incontri con il sindaco abbiamo fatto esposti eccetera ma non abbiamo avuto mai una risposta mai Elino Balestra dopo aver ascoltato i residenti di via del Moletto con l'operatore Filippo Pucci è andato poco distante lungo la pista ciclabile quella che costeggia il canale Albani perché lì c'è arrivata un'altra vostra segnalazione che riguarda la folta vegetazione che impedisce di fatto ai ciclisti di andare con sicurezza in bicicletta la mobilità sostenibile è una cosa molto bella e fa bene oltre che all'ambiente anche a noi stessi alla nostra salute e al nostro equilibrio psicofisico inoltre a Fano l'amministrazione comunale più volte ha ribadito questo concetto come un asse portante della nuova mobilità fanese vedi piste ciclabili in via di completamento a Fenile e il progetto della ciclabile adriatica fino a Senigallia e la nuova asfaltatura rossa sulla nazionale in via di realizzazione tutto bello, tutto giusto ma le piste ciclabili che abbiamo qual è il loro stato di salute? beh, per quella che costeggia la ferrovia a Gimarra e più avanti verso Pesero non è buonissimo sfalci e potature a contagocce e spesso l'aspetto è più da foresta ammazzonica che da ciclabile salute migliore non gode quella che costeggia il canale Albani dove in corrispondenza anche di un punto particolarmente insidioso ciclisti e pedoni sono costretti a circunnavigare il fogliame finendo così sulla carreggiata ho visto che lei praticamente si è allargato quasi fin nella carreggiata per evitare qui certo, certo è un po' pericoloso molto pericoloso lei la fa spesso questa ciclabile? io abito lì quindi è quotidianamente? quotidianamente sia in un verso che nell'altro? anche bisognerebbe tagliarle queste erbazze sì ma fa spesso sta strada? sì, tutti i giorni praticamente quindi insomma è un problema quotidiano? sì, sì notavo l'altro giorno ho detto qui sarà ora che gli danno una tagliata perché non si passa più soprattutto a salire a venire su? eh sì perché poi ci incrociamo in due tante volte quindi uno che viene giù deve allargarsi e incrocia l'altro che viene su insomma però insomma qui c'è insomma una vegetazione che vi crea qualche problema abbastanza anche quando vado in bici la stessa cosa stessa cosa adesso è a piedi però è un pezzo che qua in questo punto ci si deve allargare magari se si passa bisogna invadere la corsia delle automobili per forza di quando si è in bici quando si è a piedi è un po' più facile combinare però comunque è sempre un problema allora attenzione comunicazione di servizio per tutti i residenti del quartiere Sant'Orso a Fano domani mattina per chi ci segue domani è mercoledì mercoledì 24 di agosto dalle 8.30 alle 11 verrà interrotta l'erogazione dell'acqua nelle abitazioni per sistemare e riparare una tubatura che si è improvvisamente rotta nella condotta idrica principale quindi è una comunicazione di Aset domani mattina dalle 8.30 alle 11 come vedete anche nel fascione per tutti gli abitanti del quartiere Sant'Orso non ci sarà l'acqua potabile nelle case allora torna la fiera di San Bartolomeo siamo ormai quasi alla fine dell'estate quando arriva la fiera è un po' la fine dell'estate segna un po' la fine dell'estate anche se dal punto di vista meteorologico invece l'estate continuerà fino al 31 di agosto ma dicevamo la fiera la fiera di San Bartolomeo una fiera antichissima a Fano non c'è solo il carnevale ad affondare le sue origini sin nella notte dei tempi c'è anche un'altra manifestazione di altro genere e di altra natura che esisteva sin dai tempi della signoria dei Malatesta è la fiera di San Bartolomeo di cui si trova traccia in un bando in data 8 aprile 1457 con cui veniva indetta una fiera della durata di 15 giorni sempre nel mese di agosto di quel periodo è anche la nascita della tradizionale vendita delle cipolle nel 1500 poi venne fatto di vieto a chiunque di fare incetta di cipolle nel territorio fanese prima della fiera onde evitare fenomeni di speculazione oggi la fiera ha un sapore completamente diverso anche se le cipolle e le corone d'aglio sono ancora lì che fanno bella mostra sulle storiche bancarelle ma il carattere popolare e festaiolo l'ha mantenuto lo testimonia l'edizione di quest'anno che presenta molte novità oltre alla veste grafica nuova e totalmente assente gli anni passati un notevole spazio troveranno anche i bambini che oltre a lustrarsi gli occhi sulle bancarelle dei giocattoli potranno fare i capricci per salire sui gonfiabili di tiro e molla e diventare loro stessi dei provetti commercianti con la fiera franca sotto la tenso struttura della sassonia i più piccoli avranno riservato uno spazio espositivo in cui scambiare e barattare giochi libri fumetti e oggettistica varia assieme ai 230 espositori ufficiali che per tre giorni occuperanno il lungomare della sassonia di Fano la fiera dell'est per i tuoi soldi un topolino mio padre compro allora la mostra Vangia Palazzo Bracci Pagani sculture e disegni che è stata allestita presso il sistema museale di Palazzo Bracci Pagani dalla fondazione Cassa degli Sparmi di Fano in programma fino al 21 agosto prossimo resterà aperta fino all'11 settembre nei soliti orari di accesso la fondazione Cassa degli Sparmi di Fano dopo tre mesi di apertura e un sempre crescente interesse nei visitatori che in centinaia frequentano le sale d'intesa con il maestro Vangi ha deciso quindi di prorogare la chiusura dell'evento per dare modo a turisti e cittadini di ammirare le opere esposte dunque l'apertura è fino all'11 di settembre andiamo adesso urbano invece per parlarvi del Ponte dei Conciatori che tanti disagi ha creato in questo ultimo anno a causa dell'interruzione della viabilità della strada ebbene è stato avviato questa mattina ad Urbani il cantiere per i lavori sul ponte al quale ha fatto visita anche il presidente della provincia Daniele Tagliolini i lavori consistono nel rinforzo strutturale del ponte nella sostituzione delle barriere di sicurezza e nel miglioramento della viabilità pedonale aggiungendo un nuovo impianto di illuminazione e adesso andiamo torniamo a Bellocchi a Fano per l'edizione numero 13 del Paese dei Balocchi un'edizione davvero straordinaria pensate 25 mila persone hanno visitato questa importante manifestazione che ha chiuso i battenti con un finale pirotecnico di grande suggestione degno della tredicesima edizione il Paese dei Balocchi chiude i battenti ed incassa un bel 25 mila presenze siamo molto contenti soprattutto per come è cominciato con Don Ciotti che chiaramente è venuto a parlarci di libertà uno dei massimi esponenti di gruppi di associazioni che lavorano su quel tema sugli ultimi e quindi veramente è partito col botto e proseguito con tanti altri spettacoli laboratori e soprattutto anche tutta la fase educativa legata ai bambini quest'anno abbiamo aggiunto Fiave in libertà un'altra cosa dove i bambini un altro spettacolo dove i bambini si possono vedere si possono e possono travestirsi nelle varie Fiave e quindi ogni anno aggiungiamo un pezzo e cerchiamo di mantenerli perché quella è la nostra veramente particolarità si era capito subito che questa edizione avrebbe avuto un successo di pubblico come mai il tema e la caratura degli ospiti presentati in conferenza stampa già bastavano per far salire l'asticella una tacca più in su la libertà declinata in ogni forma e grado non poteva che essere incarnata da un sindaco che ha speso e spende la sua vita ogni giorno per tenere alto il significato di questa parola Don Ciotti che con parole toccanti e dirette al cuore di tutti i partecipanti ha preso sulle spalle la fascia di sindaco della città dei Balocchi spingendo la piccola comunità di Bellocchi e Piazza Bambini del Mondo nel firmamento nazionale delle manifestazioni DOC come la regione Marche ha sottolineato per capacità di rinnovamento e unicità per voce dei suoi consiglieri presenti nel paese dei Balocchi ogni giorno è una novità da non credere ai tuoi occhi va bene il buon cibo a chilometri 17.2 l'hamburger appositamente creato la tradizione culinaria affanese va bene le associazioni di volontariato nel campo dei miracoli va bene anche l'immarcescibile geppetto nella pancia della balena che ogni 15 minuti ingoia bambini stupiti per poi cacciarli fuori con sorrisi a 72 denti vanno bene i carabinieri integermi che fanno pandan con il gatto e la volpe va bene la musica cantautorale e popolare che riempie la pista di gente allegra va bene tutto ma un paese dei balocchi senza la gioia dei bambini sui quali scrivere il nostro futuro non potrebbe esistere nel paese dei balocchi ogni giorno una nuova vita proprio sentita era l'ultimo servizio grazie per averci seguito Occhio alla notizia torna a domani arrivederci grazie per aver guardato